Nel fondo de cor vostro, il silenzio delle stelle, attraverso Maria Teresa G., 20 dicembre 2003, entità sante, e la bestia sull'omini fuoco versò, agnuno dimandando, sei tu innocente o sei tu colpevole, ed essi condannati furono alla pari, e la bestia contro i galeoni furia scatenò dell'acque, agnuno dimandando, sei tu innocente o sei tu colpevole, e tutte le navi si inabissarono, e la bestia sui restanti morbo crudele sparse, agnuno dimandando, sei tu innocente o sei tu colpevole, e tutti morirono. Profezia codesta e antichissima di Santo Eremita, e a voi figli, la porgo in speme di indurvi a riflessione. Molte voci ispirate, elevate, si sono nel corso dei secoli, e però, ai voi, poche coscienze ascoltate le hanno. L'omini odio hanno continuato a seminare, e l'ora è giunta della raccolta. Come di già dettovi, teste di giusti nella polvere di ogni paese rotoleranno, insieme a quelle dell'ingiusti. Come di già dettovi, sangue copioso bagnerà città e campagne, sponde e deserti, e in polvere mutati palaggi e tuguri saranno. E nel grande fiume di sangue, omo distinguere, non saprà quello dell'innocente da quello dei colpevoli. quanto incodesto tempo vi è dato a vedere, solo inizio è di quanto si compirà, allorché canuti saranno i figli dei figli vostri. E ancora non sarà tutto, a meno che l'omini a ragionare e agire saggiamente non imparino, ben pesando i valori. Per divozione al santo bambino, e per rispetto a quella parte d'umanità dimenticata, che niente possiede, né grano per sfamarsi, né difensori, invitovi a non sostare in ogni loco, ove oro luccica di tanti doni inutili, bensì longamente, umilmente, sostate nel fondo del cor vostro, ove luccica oro ben diverso, insostituibile ed eterno. Commento L'entità sante è un veggente della forma coscienza cristica, che nel corso dei secoli è stata spesso inutilmente apocalittica. Inutilmente perché tutto va sempre e comunque per il meglio. Forse il catastrofismo dei veggenti cristici serve a stimolare la diffusa, bassa evoluzione della condizione umana.